Dal 30 giugno al 7 ottobre il Museo Internazionale delle Ceramiche festeggia 60 edizioni del Premio Faenza con una mostra in cui 17 curatori internazionali hanno scelto una cinquantina di artisti contemporanei che lavorano con la ceramica. Abbiamo voluto celebrare 80 anni del premio e 60 edizioni, nonché i 110 anni della Fondazione del Museo, con una mostra particolare, quindi un premio speciale che è un'edizione speciale dedicata all'arte contemporanea. I protagonisti oggi dell'arte contemporanea ceramica attraverso opere molto complesse, molto differenti. È una mostra insolita che cerca di raccontare le poetiche dell'attualità. Il Premio Faenza è il più longevo al mondo dedicato all'arte ceramica. Abbiamo fatto una scelta internazionale. Cosa vuol dire? Da tre anni abbiamo lavorato con 17 curatori, abbiamo scelto un centinaio di artisti e da qui abbiamo selezionato una cinquantina, 53 per l'esattezza, protagonisti che a nostro avviso rappresentano oggi un discorso di contemporaneità.